Oh, guarda che bianco bianchissimo! Ne è valsa la pena comprare questa vernice! Ultra Solar White Mega Fluo Intense Professional! Una settimana di duro lavoro, però ora la casa risplende di luce propria! Ma che cavolo? Mi scusi tanto, signore! No, cioè, è come dire, ma sei stupido? Non intendevo sporcarle la casa! Ci ho messo giorni per verniciarla, ma sai quanto costa questa vernice? La colpa è di quel miscredente, non ha voluto ascoltarmi! Ma come lo tolgo il sangue adesso? L'apocalisse è vicino! Ma è vicino all'apocalisse del tuo cervello, va via! Ma guardate, ore, ore di lavoro buttate in daccessa, robe da matti, robe da matti! Oh, ma vara che bianco, fatta ancora più bella di prima! Ci ho messo un po' a togliere via tutte quelle macchie di sangue, è un casino, ma grazie alla vernice! Ultra Solar White Mega Fluo Intense Professional! Ora posso dire che la mia casa risplende di luce propria! Ma nooo! Mi riscusi, signore! Ma allora vuoi le botte, bimbo? Ha detto che non stava arrivando l'apocalisse, allora gli ho detto di sì, lui mi ha detto che sono stupido e allora gli ho sparato! Sì, ma sempre qui dovete venire a discutere! Tu credi che stia arrivando l'apocalisse, vero? Ma qual'apocalisse? Ma tu sei fuori come un... Beh, ovvio che arriva l'apocalisse, certo che lo so, però se la prossima volta non vieni qui a sparare alla gente sarebbe meglio! Certo, certo, ci vediamo, se l'apocalisse non arriva prima! Ma guardate quel maledetto macchiatore di muri, ma te la do io l'apocalisse in the face! Ecco là, di nuovo bianca! Ormai conosco bene tutti i prodottini per togliere il sangue, son diventato piccolo chimico! Però adesso ho speso tutti i soldi per la vernice! Ultra Solar White Mega Fluo Intense Professional! Dovrei fare una recinzione qui intorno per evitare che qualcuno venga a rovinarmi di nuovo! Ciao! Non hanno fermo! Sono solo venuto a dirti addio! Come? Fra poco arriverà... L'apocalisse! E me ne vado in un bunker! Ah, ok! Scusa ancora per il sangue, ma sai... L'apocalisse! Sì, ok, fa niente! Ci si vede, allora, e attento all'... L'apocalisse! Sì, ciao, ciao, ciao... Beh, almeno me lo sono tolto dai piedi! Poteva venire prima l'apocalisse, così almeno evitavo di spendere un sacco di soldi nella vernice! Ultra Solar White Mega Fluo Intense Professional! Ahaha, capite, davvero? Perché è costata davvero tanto! Ma guarda che robina che è venuta! Ahaha, ma quanto bella non è questa casa! Sì, no, vabbè, però... Sono passati molti anni da quando c'è stata la guerra nucleare. Ricordo la mia casetta come se fosse ieri. E ora finalmente è di nuovo qui con me, ricostruita fin nei minimi dettagli. Ho risparmiato anche sulla vernice... Ultra Solar White Mega Fluo Intense Professional! Perché qua ormai è tutto fluo grazie alle radiazioni. Ora ho un posto felice dove passare il resto della vita che mi rimane. D'ora in poi qui c'è un nuovo regno! Uno regno di caos e distruzione! Lunga vita alle sorelle che spaccano le cose! Diglielo, sorella! Ma porca di quella... Lunga vita alle...